Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso e Nera, ben ritrovati parliamo di calcio mercato perché oggi ho letto una indiscrezione legata a un nome nuovo che è stato proposto al Milan e che secondo RMC Sport piaceva e piace molto a Paolo Maldini. Infatti secondo RMC Sport Milan starebbe valutando l'opzione William. Il brasiliano sarebbe stato proposto nei giorni scorsi a Paolo Maldini che secondo RMC Sport gradirebbe il profilo del calciatore ex Chelsea o rinforza l'Arsenal per rinforzare l'attacco, soprattutto la tre quarti, la fascia dell'attacco rosso-nero. Questa notizia mi ha in qualche modo un attimo incuriosito perché il profilo di William è sicuramente un profilo di alto livello, seppur ormai ha 33 anni però ho voluto fare delle verifiche personalmente. Grandi sono autorevoli colleghi di RMC Sport ma mi sento totalmente di in qualche modo non poter dire praticabile questa opzione. Vi spiego perché. William l'abbiamo detto ha 33 anni, ha compiuto i 33 anni qualche giorno fa il 9 agosto è nato infatti il 9 agosto dell'88, è andato a parametro zero dal Chelsea all'Arsenal quindi ha lasciato i Blues per andare nei Gunners. Ha un contratto con l'Arsenal fino al 30 giugno del 2023 quindi due anni ancora di cartellino. L'Arsenal che ovviamente ne farebbe anche a meno visto il rendimento avuto dal calciatore visto l'altissimo ingaggio che gli ricorrisponde, si libererebbe volentieri a parametro zero del calciatore perché lo ha preso a parametro zero quindi non fa minus valenza e ovviamente andrebbe anche a risparmiare i tanti milioni che garantisce al calciatore. La valutazione secondo Transfer Market è di 9 milioni di euro. Giocatore William che al Chelsea ha totalizzato, dove ha fatto meglio possiamo dire, al Chelsea ha totalizzato 339 presenze andando a segno a 63 volte fornendo 56 assist. Questi numeri l'hanno portato a vincere due trofei, a vincere la Premier League, a vincere una coppa inglese. Solo che una volta che il Chelsea ha dato vita possiamo dire al nuovo ciclo, William, la società inglese guidata da Roman Abramucci ha deciso di non puntare sul calciatore. Il calciatore che probabilmente anche un po' per ripicca e grazie anche all'alta offerta ai Gunners ha deciso di andare dagli acermi nemici, dai rivali, un po' come fosse Milano e Inter, di andare all'Arsenal. All'Arsenal dove ha firmato tre anni di contratto, andato la scorsa stagione quindi 2020-2023, firmando un contratto che lo lega all'Arsenal per 100.000 sterline a settimana, una cifra pazzesca, una cifra incredibile e guadagna, convertito da sterline in euro, circa 11 milioni di euro all'anno più uno di bonus, secondo quanto abbiamo raccolto. Quindi una cifra che già questo ci fa capire, ci fa mettere una pietra sopra all'opzione William, può piacere a Maldini ma non è praticabile, quindi in qualche modo smentiamo categoricamente l'indiscrezione di calciomercato. E poi, anche se fosse praticabile, anche se il calciatore si in qualche modo dimezzasse l'ingaggio perché vorrebbe venire a provare a giocare al Milan, mi sento di sconsigliare l'investimento perché già gli ultimi tre campionati hanno visto l'involuzione di gol, non è intanto stato mai un esterno che andava in doppia cifra, quindi a noi serve un giocatore che vada in doppia cifra sull'esterno d'attacco. Infatti nella stagione 2018-2019 al Chelsea ha totalizzato 32 presenze, 3 reti e 7 assist, nella stagione 2019-2020 al Chelsea ha totalizzato forse la sua migliore stagione 36 presenze, 9 reti e 7 assist, nella stagione 2021 la prima all'Arsenal ha totalizzato 25 presenze, un gol solo e 5 assist, quindi un bottino troppo, possiamo dire, esiguo visto l'alto ingaggio che percepisce il calciatore. Quindi ci sentiamo assolutamente di, in qualche modo, possiamo smentire categoricamente questo interessamento per il calciatore, è un calciatore che probabilmente può piacere per il profilo internazionale, per l'esperienza, ma non sarà mai, e io dico mai, un calciatore rosso-nero, un calciatore che prende 100.000 sterline all'anno, che prende più di 11 milioni netti a stagione, ancora per due anni, probabilmente rimarrà zavorra, possiamo dire rimarrà un peso per le casse dell'Arsenal, seppur un giocatore che a me, quando qualche anno fa piaceva molto, ma adesso in Milan, per il concetto di efficienza di cui parlavamo ieri, per il concetto di sostenibilità, di futuribilità, non rientra nei piani, nei progetti rosso-neri. Quindi la rubrica rosso-nera smentisce categoricamente questa opportunità, questa indiscrezione di calcio-mercato. E come sempre, se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettermi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso-nera.